Amici di milan.soc, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera. Grazie a tutti coloro che hanno commentato il video precedente, per chi non l'avesse visto lo metto alla fine di questo, questa situazione così urgente da chiarire perché oggettivamente stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di quello che ha detto il procuratore nazionale antimafia e non di infiltrazioni ma organizzazioni stabili nel calcio professionistico nel centro nord Italia, quindi abbiamo chiesto, fatto una sorta di approfondimento, vabbè ne abbiamo già parlato grazie a tutti, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, fatelo qui sotto, mi raccomando è gratuito e mettete un like, un pollicione a questo video. Allora avete visto la copertina? Sì, allora faccio subito una premessa, io vi riporto come dire quelle che sono le questioni che sono sul tavolo, poi quanto a veridicità e quanto a discussioni, beh i commenti sono aperti quindi li lascio a voi nel possibile, io sarò pronto con voi a rispondere. Prima però di entrare nel particolare io ci tengo sempre ad aggiornarvi, perché questo canale lo fa puntualmente, dei dati statistici che riguardano questo Milan e quali sono i nei punti di forza, i punti di debolezza, dove dobbiamo migliorare per il futuro, insomma perché è facile dire dobbiamo cambiare tutta la squadra, manca il terzino destro perché Calabria non è nell'altezza, Teo vuole andare via, l'attaccante Giroud insomma è agli addi, cioè bisogna cercare di andare un po' più nello specifico. 34 sono le partite giocate di cui 6 perse e quindi 21 vinte e 7 pareggiate. Non un diciamo così un campionato all'altezza della situazione o comunque all'altezza delle premesse, ve le ricordate le prime partite? Pensavamo di aver imboccato la strada giusta, molti di coloro che scrivevano Pioli Out poi si sono, o meglio Redbird Out, poi con la campagna acquisti hanno fatto una piccola marcia indietro, legittima, perché comunque la campagna acquisti c'è stata, a me non è piaciuta ma io non sono nessuno per poterla giudicare e dico per quanto mi riguarda a me personalmente. Andiamo sulla questione dei falli subiti e dei falli commessi, il Milan ha commesso 390 falli e ne ha subiti 368 e ancora qui siamo quasi al record, 74 cartellini gialli e 6 cartellini rossi, due doppie ammunizioni in attacco. L'attacco ha fatto 64 gol, quindi diciamo che il problema non è nel numero dei gol ma nella capacità realizzativa, siamo ancora bassi, siamo al 13% contro chi ha vinto lo scudetto che è salito al 16%, quindi tre punti in percentuali sulla capacità realizzativa contano, contano anche i rigori ma ci arriveremo più tardi, le espulsioni e le ammunizioni alla sala barra, lo so, lo so benissimo. 370 quindi occasioni da gol, 64 i gol totali, 47 gli assist vincenti, qui è leader Leao purtroppo non lo è nei gol fatti, quindi nella capacità realizzativa. 414 cross totali, 198 quelli utili, meno della metà, siamo però in testa con 11 reti nella classifica dei gol fatti da calcio d'angolo, 7 i rigori a favore, 5 quelli realizzati. Allora andiamo nei quarti di tempo, tra il minuto 0 e il quindicesimo 8 gol, tra il quindicesimo e il trentesimo 8 gol, tra il trentesimo e il quarantacinquesimo 16 gol, quarantacinquesimo, sessantesimo 12 gol e poi il momento buio del Milan, sessantesimo, settantacinquesimo rimaniamo a 4, settantacinquesimo, novantesimo 16 gol. Tiri in porta, 480 i tiri, 182 in porta, 177 fuori, 121 respinti. Andiamo alla difesa, 105 parate, 39 gol subiti, gol subiti nei quarti di tempo, da 0 a 15-3, da 15 a 34, da 30 a 45-8, nel secondo tempo dal quarantacinquesimo al sessantesimo 5 e poi c'è il momento buio del Milan, quindi solo 4 gol fatti e 11 subiti, tra il sessantesimo e il settantacinquesimo e ancora tra il settantacinquesimo e il novantesimo 8 gol subiti, 7 rigori contro, 7 rigori entrati nella rete, 261 palle perse, 1740 palle recuperate e ancora possesso palla, 32 minuti e 17 secondi, media chilometri percorsi per partita, 108,58, questi sono i dati statistici, ma veniamo alla copertina. Cosa è successo ieri? Qui c'è un braccio di ferro tra Zlatan Ibrahimović e Furlani, Zlatan vuole Conte, Furlani vuole Lopeteghi e poi ancora Cardinale deciderà questo braccio di ferro, ma a un certo punto Ibra ha provato a giocarsi una nuova carta e qui viene in soccorso una fonte, qui stiamo parlando di un canale spagnolo, quindi la metto lì, non do giudizi, non dico è fatta per questo, è fatta per quell'altro, però c'è un nome nuovo, parliamone, poi magari non si fa nulla, magari hanno già firmato con Lopeteghi, questo purtroppo ragazzi nessuno lo può sapere, chi vi dice il contrario mente, però io prendo un organo di informazione sportiva spagnolo che è appunto Cadena Serra e ci dice che il nuovo allenatore del Milan sarà Hernan Crespo, attuale allenatore della Lin, degli Emirati Arabi, finalista di Champions League Asiatica, è stato, secondo questo organo di informazione, contattato da Zlatan Ibrahimović e avrebbe detto sì al Milan, lì c'è scritto ha detto sì al Milan, io uso il condizionale, l'argentino e lo svedese sono amici fin dai tempi dell'Inter, Crespo è molto entusiasta, sarebbe, io uso sempre il condizionale, comunque è entusiasta, sono convinto di tornare al Milan e riconquistare la gloria del 2005 con la drammatica finale di Istanbul, Crespo come vi dicevo attualmente è l'allenatore della Lin, degli Emirati Arabi che si è appena qualificato in finale di Champions League battendo andate al ritorno i sauditi del Ali Hilal, ricordiamo che il Ali Hilal è l'unica squadra al mondo a non aver perso una partita nella stagione 2023-2024 con il Bayer Leverkusen e il Rea di Casablanca in Marocco, quindi sono tre sostanzialmente le squadre, Crespo è apprezzato dai giovani, sviluppa un gioco di transizione rapide e di alto possesso stile Tikitaka spagnolo e punta molto sui giovani, pronto a rilanciare Ciucuese e Okafor che vivono un incubo con Pioli, conosce l'ambiente Milan ed è campione, lo ha dimostrato in Italia e in Inghilterra, fa benissimo negli Emirati, bienvenido senor don Hernan Crespo, questo è quello che c'è scritto. Ora, cosa ne penso io? Io personalmente penso che bisognerebbe che ci fermassimo un attimo tutti e che la società ci dicesse onestamente che cosa vuole fare, che ci convocasse, e uso il termine convocare, che facesse una conferenza stampa in cui dice esattamente come stanno le cose, non si può aspettare ancora quattro partite, perlomeno aspettiamo Milan-Genoa, prendiamo tre punti, è ufficiale che siamo in Champions, mi avete chiesto anche per la Final Four della Supercoppa, il fatto che la Juve sia in finale di Coppa Italia blinda anche il terzo posto, quindi per esserci ci saremo, a meno che non arriveremo quarti, ma insomma io credo che questa faccenda la si chiuda così come è oggi la fotografia della classifica. Però in questi termini io dico che Crespo, mi sono andato a leggere un po' di cose, non è una figura brutta, però onestamente io vorrei allora a questo punto, se ci sono contaminazioni rispetto al passato, sempre conte, oppure se queste contaminazioni possono essere evitate, preferirei un allenatore che non sia il cagon, ma che sia un allenatore nuovo, io vorrei Klopp a questo punto, se non conte, investite qualche soldo. Tra l'altro ieri mi sono imbattuto ancora una volta e la ricito per l'ennesima volta sulla Gazzetta dello Sport e la cosa che mi ha infastidito è stata vedere questa festa complessiva, questo orgasmo totale da parte del giornale Rosa per la festa Scudetto, ne parleremo a tempo debito, e parlare di Milan tanto tanto dopo facendo leva solamente su un malore dell'allenatore la Peteghi, quello lì, dai io scherzo, perché durante una sua trasmissione sportiva è svenuto, dice non regge la pressione, ragazzi sulla salute non si scherza, magari lì avete fatto l'ennesimo scivolone, ma ormai come dire, parlate piuttosto del curriculum così come l'abbiamo visto noi nel video di ieri, magari ve lo metto anche questo, ve lo metto alla fine di questo video. Va bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di Crespo, io ve l'ho detto, preferirei di no, però è un nome che potrebbe essere, che potrebbe mettere d'accordo sia Ibraimovic sia Furlani, perché alla fine se Ibra vuole Conte, Furlani vuole Lopeteghi e mettono in difficoltà Gerry Cardinale, forse i due si parleranno e diranno tiriamo fuori un nome che vada bene a tutte e due, potrebbe essere Crespo? Punto interrogativo. Ci sentiamo più tardi, ciao.